Sabato 10 settembre, Mark Fitt sarà presente allo show più importante d'Italia della ICW, Total Destruction. Doblone, tutte le volte riesci ad entrare e distruggere tutto. Come con tutte le persone della ICW, tu cerchi di essere furbo, cerchi di trovare il tuo tesoro lungo il mare, ma navigando, navigando, navigando lungo il mare, prima o poi ti trovi un iceberg e quell'iceberg sarò io, Mark Fitt contro Doblone il Pirata. Ti spacco! Grazie. 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 Grazie.